Sarà stipulato un protocollo d'intesa tra comune di Andria e Cisa, comunità, istituzioni scolastiche andriesi, sull'organizzazione e la gestione del pasto da casa, oltre ad alcuni altri aspetti del servizio di refezione scolastica, e quanto deciso al termine della conferenza di capogruppo convocata ieri pomeriggio a Palazzo di Città, un momento in cui si è fatto il punto della situazione per quel che riguarda il servizio mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria della città di Andria, alla presenza di una rappresentanza di dirigenti scolastici cittadini, oltre a consiglieri comunali ed alcuni genitori. Presente naturalmente l'assessore alla pubblica istruzione Gianluca Grumo, soddisfatto dei passi in avanti fatti sino ad ora. Oggi quasi l'80% dei bambini, avendo il diritto del servizio di refezione, stanno soffrendo del servizio mensa. Devo dire che è chiaro rispetto a quelle difficoltà che era naturale incontrare nella fase di start-up, ormai siamo a regime, già appunto dalla giornata di oggi e di ieri sono entrati in distribuzione i blocchetti dei buoni pasto, con una grande affluenza di gente, per cui devo dire che ormai la fase di rodaggio è passata e il servizio di refezione scolastica ad oggi è una realtà. Ribadita sia la situazione delle scuole dell'infanzia che quella delle scuole primarie, per il primo caso sarà impossibile prevedere il pasto da casa per diverse ragioni, ma soprattutto perché la mensa dovrebbe avvenire in regime di autosomministrazione ed i bambini non hanno l'autonomia minima per autogestirsi, come hanno spiegato i dirigenti. Per la scuola primaria invece c'è una situazione differente poiché i bambini sono più grandi e quindi c'è la possibilità di un utilizzo eventuale del pasto da casa. In alcuni istituti, quattro per la precisione, si è provveduto alla suddivisione per giorni, due a settimana tramite il servizio erogato dall'ente e altri due che prevedono il pasto domestico ed è proprio su questo che sarà sottoscritto il protocollo d'intesa per uniformare il servizio di refezione scolastica all'interno dell'istituto andriesi. Nel complesso sempre più famiglie stanno aderendo alle linee tracciate. Sino ad ora questo è emerso durante la conferenza di Capigruppo. L'assessore Grumo auspica il superamento di ogni divergenza e il raggiungimento dell'intesa. Penso che l'obiettivo sia stato raggiunto, ovviamente con la difficoltà che era naturale avere vista la novità di quest'anno, il cambio di tariffe e anche il ritardo dovuto ad altri aspetti tecnici dell'avvio della mezza scolastica. Per cui ritengo che nonostante le difficoltà incontrate si sia riuscito a centrare l'obiettivo.